Come è la squadra di A2? Devo dire che per questa seconda partita siamo stati avvantaggiati dall'infortuna del loro palleggio che è veramente un fenomeno questa ragazzina qua e mi dispiace molto per lei. Ci ha spianato un po' la strada ma comunque noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e praticamente non quello di ritenerci già vincitori perché magari loro erano in difficoltà. Detto questo la partita si è sviluppata ancora solo nel nostro servizio, siamo stati molto bravi a variare le profondità, abbiamo sempre messo in difficoltà i loro ricitori attaccanti e poi devo dire che oggi l'MVP Marinoni ha giocato veramente una gran partita ma tutto sommato un po' tutte le ragazze. Infine mi è piaciuto anche il fatto che ci siamo portati a casa anche il terzo set perché vinto i primi due ormai abbiamo superato la fase successiva dei playoff ma nonostante ciò gli si è chiesto alle ragazze di avere fame di vittoria e di non mollare. E lì sono state brave perché comunque siamo andati un po' sotto, siamo andati su punto a punto e poi alla fine siamo stati brave a chiudere noi il set e la partita. Quindi complimenti alle ragazze e devo dirlo a tutto lo staff e la società che ci è sempre stata vicina nei momenti anche un po' complicati. Grazie.